Idee proposte e condivise per la crescita sociale ed economica del Paese. Questo è il tema di un convegno nazionale che nell'auditorium comunale di Rocella Ionica ha radonato economisti e giuristi provenienti da ogni parte d'Italia. Ritengo che la possibilità di poter fare un evento nazionale nel nostro territorio, nella Locride, costituisce un'opportunità sia per la tutela e lo sviluppo delle nostre professioni e sia anche per lo sviluppo del nostro territorio. Un'intesa che punta a rafforzare l'azione coordinata tra le professioni giuridico-economiche che a breve individeranno un pacchetto di temi comuni su cui elaborare proposte da sottoporre alla politica. Oggi sono uniti perché le competenze sono sempre più stringenti, sempre più importanti quindi le professioni devono lavorare tra di loro in perfette sinergie. Nel corso della tavola rotonda spazio e temi economici di stretta attualità e un focus sulle prospettive e le opportunità delle professioni nell'era di Industri 4.0. Ma la tecnologia dovrà essere soltanto uno strumento per rendere le nostre professioni sempre più al passo con i tempi e sempre più innovative e sempre più di supporto ad uno Stato che arranca. Ilario Balì per la CINUS24 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 Ilario Balì per la CINUS24